Ben ritrovati al consueto appuntamento di Incontro con. Quest'oggi incontro un amico che è Giovanni Carano che saluto e che ringrazio per la disponibilità e con il quale parleremo del suo ottavo lavoro che è questo, un libro dedicato al massiccio del grappa. Penso che questa sia la prima opera che comprende tutte le salite dai vari versanti del Monte Grappa. Come mai questa scelta? Beh diciamo che il Monte Grappa io l'ho sempre visto un po' in maniera distaccata perché gironzolando sulle prealpi trevigiane arrivavo fino al confine ovest sopra Segusino dove c'è il Monte Doc, il Valina e guardavo di là del Piave questa imponenza che poi mi raccontavano che c'erano queste ferrate, questi sentieri, queste gallerie, queste trincee. Era un po' scettico a dirla tutta. In realtà a un certo punto quando ho finito la mappatura delle prealpi trevigiane ho detto dai proviamo a metterci in gioco, scavalchiamo il Piave dove ogni tanto nasce la Berta che è questa curiosità meteorologica, si forma uno strato di nebbia e quindi si crea quasi uno sbarramento ulteriore. Insomma parto con questo primo sentiero all'850 da Carpen arrivo in cima al Monte Tomatico, 1595 metri e vedo uno spettacolo, cioè la Val Belluna nella la sua interezza, il dorsale Coppolo Pelfro, questa è la montagna che fa per me. In effetti è uno dei punti panoramici più belli del massiccio del Grappa quello. Decisamente, quello ha la possibilità appunto di far vedere tutta la dorsale che va con le vette Feltrine, Monti del Sole, Pelf, Schiara fino al Monte Serva, la Val Belluna e quindi è come andare in aereo. Però hai iniziato anche con uno dei sentieri più difficili, lì c'è il Torre del Tedesco del Todesco che sale, sono 1300 metri. È abbastanza sostenuta come salita, oltretutto anche passaggi impervi come il Covol della Portadella, il Pian della Signora, insomma sono località non così note ai più e proprio quello è il bello, andare alla ricerca di angoli nascosti e ecco il perché del riscoprire Monte Grappa. Io ho voluto portare diciamo su carta tutto ciò che non si vede, certi itinerari che sono nascosti perché la gente tende ad andare sempre sui soliti posti del Grappa. Peraltro a seconda dei versanti cambiano anche molto le salite. Certamente se andiamo ad esempio nella Val del Brenta abbiamo degli salti altimetrici fissi che sono di mille metri, quindi lì o volenti o nolenti bisogna affrontare mille metri di dislivello. Allora disegniamo un pochino la mappa, c'è la Valle del Brenta, quella che poi prosegue con la Val Sugana, c'è tutta la parte di Arsie e il Feltrino, c'è la parte di Quero e poi c'è tutta la parte di Crespano del Grappa. Anche lì ci sono dei sentieri molto carini da salire e anche commisurabili a quelle che sono le capacità di fatica di ognuno. Sì, nella parte meridionale dove appunto abbiamo la pedemontana del Grappa abbiamo una dorsale un po' più dolce, ecco, quindi abbiamo la possibilità di uno sviluppo altimetrico minore, più dolcezza e più tranquillità nella passeggiata. Poi ci sono anche itinerari semplici come a Crespano il sentiero di Don Paolo Chiavacci che ha dato anche le famiglie insomma. E certo non è facile in alcuni punti perché ci sono anche delle ferrate che forse pochi sanno. Esattamente, quella è stata una bella scoperta perché mi hanno detto, le ferrate, ma ferrate cosa c'entra? Le dolomiti, no? Eh buongiorno, sono ferrate di tutto rispetto, c'è la Guzzella, c'è la Sasbrusai, insomma sono dei percorsi classificati e e a, quindi bisogna andare assolutamente attrezzati con il caschetto e l'embrago. Diamo qualche numero, quanti sono gli itinerari? Allora, sono 42 itinerari, 74 varianti, 626 chilometri di sentieri, è un massiccio enorme. Quanto ci hai messo a fare? Due anni. Due anni. E in questo percorso hai avuto qualcuno che ti ha aiutato? Quella è stata la cosa chiave di tutta l'opera, cioè le persone, perché da quando sono partito con il famoso Tristano d'Alcanton che è stato un po' diciamo l'inizio nella sua zona di Carpen ed intorni, poi ho trovato in ogni vallata, in ogni località, in ogni borgo una persona che mi ascoltava. Alla fine del giro, 90. Tu i tuoi libri li caratterizzi in vari modi, c'è una parte di prefazione dove ti soffermi molto sulla geologia, che a te è un argomento che interessa particolarmente. E' una cosa interessantissima, adesso stringo perché giustamente all'interno è abbastanza complesso. Che cos'ha di particolare il grappa? Si tira con sé le caratteristiche delle prealpi trevigiane ma anche quelle dell'altopiano dei Sette Comuni, chiamiamolo così, non un autopiano di Asiago, sennò ti bucano le gomme da quelle parti. Diciamo dalla parte delle prealpi ha portato con sé il calcare del Vaiont e il calcare Selcifero di Fonzaso, mentre dalla parte dell'altopiano dei Sette Comuni abbiamo i calcari grigi e soprattutto lo straterello del rosso ammonitico, che forma delle porzioni molto imponenti, le vediamo dalla Val Brenta, se buttiamo l'occhio verso l'alto a mille metri di quota, appare questo blocco che in zona la chiamano ad esempio le rocce Anzini, che poi conosciamo bene, abbiamo scavalcato con dei passaggi alquanto impegnativi e questo è un po' la caratteristica dell'altopiano dei Sette Comuni, quindi è un massiccio che ha un mix di combinazioni ed è quella la bellezza dell'ambiente. È un ambiente carsico e lo testimonia anche una grotta che tu hai segnalato nel libro. Sì, come tutte le prealpi venete c'è il carsismo, quindi abbiamo degli inghiotti toi, abbiamo le sorgenti che vanno in fondo, le uscite delle acque sono a fondo valle, vedi il caso della sorgente Tegorzo, i fontanazzi e quant'altro, ma la cosa bella è che ci sono appunto questi inghiotti toi verticali che sono chiamati abissi da quelle parti, ce n'è uno che è spettacolare, è l'abisso Spaurasso, già il nome dice tutto. Spaurasso. Sono 600 metri di sviluppo, c'è una foto meravigliosa che mi è stata passata dagli speleologi e vengono giù in corda doppia proprio, ma è una cosa, poi io sono claustrofobico, ahimè, non entrerai mai da quelle parti, ma quel buco lì è sotto i solaroli quando si cammina, quindi pensate cosa c'è mentre si cammina sopra la cima del grado. I solaroli, abbiamo anche una foto dove tu percorri questa bellissima cresta, questa è una camminata tutto sommato abbastanza facile, basta avere le gambe per fare qualche chilometro. Sì, è un anello diciamo tra i più conosciuti, la foto che ho inserito è appena dopo il Colle dell'Orso, eccola qui, dopo il Colle dell'Orso, anzi al Colle dell'Orso si sta guardando verso nord dove ci sono le creste dei solaroli che sono una serie di microvette che sono poi famosissime per la grande guerra e poi si scende giù al Val d'Eroa e si fa la Val delle Mure Nella presentazione che tu hai fatto in prossimità di Asolo sono intervenuti tutti i rappresentanti delle istituzioni che fanno riferimento all'UNESCO, perché? Sì, Montegrappa è entrato di diritto nel mondo dell'UNESCO per una classificazione speciale che è il MAB, Man and the Biosphere, l'uomo e la biosfera, ovvero un giusto equilibrio tra l'uomo e l'ambiente. Qui in Veneto abbiamo un caso simile e sono le foci del Po. Ogni percorso è caratterizzato dalla descrizione e poi da sempre degli inserti, i box come richiami tu. I box di tipo culturale, ce n'è di tutti i tipi, dalla grande guerra. Qual è quello che ti ha colpito di più? Oddio, ad esempio gli scalpellini di Pove, se la regia manda in onda eccolo qua, questo è uno scalpellino a metà del secolo scorso, è uno degli ultimi che ha fatto quelle opere praticamente sulla conca degli olivi di Pove del Grappa in alto ci sono le priare, gli estraevano questa roccia calcarea di vario tipo perché poi danno i vari nomi e hanno fatto delle opere straordinarie. Tanto per citare l'ala napoleonica in piazza San Marco a Venezia è stata fatta dagli scalpellini di Pove, così come recentemente un gioco di scacchi in formato maxi, grandissimo, commissionato da Yoko Ono, l'ex moglie di John Lennon, ha fatto il giro del mondo, fatta dagli scalpellini di Pove. Senti, quando si parla del Grappa viene subito in mente Cima Grappa perché lì c'è anche questo sacrario. Sì, sacrario è una cosa straordinaria, è stata fatta negli anni 30 da colui quale poi l'architetto che ha disegnato re di Puglia, Giovanni Greppi, questo sacrario è imponente, grandissimo. Inizialmente era stato progettato in ottica di una misura molto più ridotta, poi con il ventennio fascista, con la teoria delle opere grandiose di quel periodo e della retorica quindi, è stato trasformato in un sacrario molto più grande ed esteso, si divide in due aree, una italiana e una austro-ungarica collegate dalla via eroica e insomma è veramente straordinario. E c'è anche un'altra curiosità che c'è un sacrario in cima al Grappa e un sacrario ai piedi del Grappa a Quero. Diciamo è l'esatto opposto dell'esercito nemico, tra virgolette, anche se oggi sarebbe bene non più utilizzare questi termini. Comunque i tedeschi si sono creati il loro sacrario ed è bellissimo, magari non tutti lo conoscono perché è un po' defilato, è a Quero, sopra una collinetta, si chiama Tottenburg, è stato fatto dai nazisti, ahimè, quindi... Sì, ha anche delle varenze esoteriche, dicono... All'interno ci sono tutti segni esoterici, c'era la svastica che però è stata cancellata nel 1945 per Damnazio Memorie e quindi l'hanno cancellata, quel che è rimasto comunque è una bellissima opera fatta di Porfido Trentino, c'è una sala interna che custodisce un'ara in granito svedese, cioè, è pazzesco, si va dentro, anche un ambiente un po' strano, un tetro, però è di una bellezza incredibile. Quindi diciamo che dai piedi sino in cima ce n'è di cose da vedere sul grappa. C'è di tutto sul grappa, il grappa è una cosa incredibile, non pensavo di aver trovato un ambiente così ricco di spunti, di cultura, di tutto. Allora io prendo uno dei tanti itinerari, il numero 36, l'anello del Peurna, ma per sottolineare che tu dai delle indicazioni che sono importanti, innanzitutto per arrivare al punto di partenza, poi il tempo di percorrenza ti tiene un po' più ampio di quello che generalmente ci metti tu. Sì, è diciamo il tempo medio del CAI, poi l'aumento di quota, quindi il dislivello che è sempre bene da tenere da conto, la distanza e il grado di difficoltà, come l'hai diviso in escursionista, escursionista esperto? Beh c'è il Tille, il doppia E e E-A che sono appunto la classificazione classica del CAI, quindi dal turistico fino all'escursionista esperto. È giusto dire che nella maggior parte dei casi è E-E, cioè escursionista esperto. E è la gran parte. Ah, la gran parte E-E, sì. Quello che hai toccato te, quello del Peurna, è un giro tosto, bisogna affrontarlo con una certa attenzione perché c'è una cengetta su erba da fare per girare appunto il Peurna, che è una montagna stranissima. Già il nome è strano, abbiamo cercato delle spiegazioni, c'è chi dice di origine retica, in realtà non abbiamo avuto una spiegazione. È comunque una montagna che va affrontata con cautela. Ecco, c'è anche da dire che tu hai quest'altra capacità di andare a cercare l'origine etimologica di alcuni nomi e in alcuni casi non si è riusciti. E appunto, in quel caso lì, come Cinespa, Cornosega, sono nomi stranissimi che insistono tutti in quella zona lì più o meno e quindi non abbiamo avuto una spiegazione univoca. Il resto sì, poi l'abbiamo anche trasferito su una nuova mappa perché la 051 Tabacco è stata completamente rivista grazie appunto a questi aiuti che ho avuto in Gironzolando per il grappa e quindi con l'occasione abbiamo fatto anche la testa. Infatti vorrei dire anche a questo che tu hai questa collaborazione con la Casa Tabacco e ogni volta che vai riaggiorni quelle che sono le cartine. Peraltro localmente ci sono anche delle persone che ti indicano dei sentieri che magari non sono più molto frequentati, ne abbiamo fatto uno insieme piuttosto ardito e poi a un certo momento si arriva, dici ma dove finirà mai questo? Se arrivi su un punto dove c'è una scaletta in ferro e improvvisamente ti trovi un'agevolazione che mai avresti pensato. Vabbè lì poi sono passati gli eserci. Quello qual è? E quello erano gli anzini di San Marino che poi è stato dismesso dal CAI, quindi invito i telespedatori a non affrontarlo perché l'ho citato solo a livello storico ma è stato dismesso proprio per la pericolosità. Sì, infatti è stata una salita piuttosto impegnativa. Tu hai buttato lì un'idea che è piaciuta molto nelle presentazioni perché a te dava questa idea di una massa un po' in forma, comunque non caratteristica come possono essere certe montagne e hai a un certo momento visto dall'alto il massiccio del grappa e ne è uscita una cosa curiosa. Sì, perché il grappa è un insieme di elementi, un insieme di vette, un insieme di valli, un insieme di cenge, di pinnacoli, ma non ha una forma univoca come il cervino e i trecimi di lavaredo. Per cui a un certo punto ho detto ma come cavolo possiamo rappresentare questo massiccio e guardandolo da Google Map, quindi zoomandolo dal computer e facendo il confine, il bordo è uscito un fantasmino, un fantasmino con le braccia, la testina e gli occhi chiaramente sono stati riportati, ma diciamo che tutto il resto sono realtà. E cosa sono quegli arti del fantasmino? Sono delle dorsali, ce ne sono praticamente cinque e scorrono una verso il lago di Corlo, una sui solaroli, l'altra nella pedemontana del grappa, poi ce n'è una sopra il borso e poi quella che unisce la zona del Rivonco, Stonco e i Colli Alti. Vabbè, ne abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, sono dispiaciuto perché c'erano tante altre cose da dire, ma vi segnalo la possibilità di acquistare questo libro, 42 percorsi, alcuni di questi da prendere con la giusta cautela, altri invece che vi permetteranno di conoscere un massiccio davvero molto interessante. Grazie per il lavoro che hai fatto, ottavo libro per te e chissà quale sarà il prossimo, lo sapremo, naturalmente avrò modo ancora di intervistarti e avere anche la possibilità di andare in giro insieme per le montagne. Siamo stati con Giovanni Carraro, autore del libro Riscoprire il Monte Grappa, grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento della visione e dell'ascolto dei nostri programmi. Grazie a tutti.